Aaaaaaaaaaaaaaaaaa, buon diiii. Oh, che bello. È mezzogiorno, volevo svegliarmi prima ma avevo un po' di cose da recuperare. Ora devo montare il video di ieri e caricare il video di sabato perché sabato, chiede, ieri sera che sta caricando. Il problema che io ho qua in casa mia, ho un internet che fa schifo e non carica! Infatti faccio sempre fatica a caricare i video da casa mia. Dai, partiamo. Prima colazione. Comunque è una cosa incredibile che dai, ieri sera si si è caricato solo il 44%. Mamma mia La teoria vuole che io la domenica mattina mi faccia sempre una colazione bella Perché ho più tempo La pratica è che dormo sempre di più per recuperare la roba della settimana E perdo sempre la colazione Quindi oggi colazione leggera, stile americano No, o inglese Uova e salsiccia Sarebbe tipo quella inglese ma non ha tutte le verdurine, cosa strana Perché l'ho finito, ma se avessi una fettina di panca re abbrustolito è proprio questa qua Buonissimo Ciao, un altro mondo Eh? Boh Voglio montare il video Adesso mi è venuta una fame Mangierei 6.000 Infatti tutte le volte che vado in hotel e c'è questa roba qua Io tutte le volte mangio come un maiale E in teoria pranzo sto male Ok, sono riuscito a pubblicarlo adesso Che è mezzogiorno, il video è di venerdì Come ho detto adesso dobbiamo andare con l'Anna a pranzo È là che scalpita perché deve mangiare i tortelli Quindi ci vediamo dopo pranzo Ed eccola qua Hello everyone Chiriamo fuori i bolidi Aspettami L'Anna quando sente l'odore di tortelli va forte Che non ci sto dietro, eh Buoni Adesso con la pancia piena di tortelli Mamma mia è ancora qua, è piena di energia adesso Wall-E No, no Wall-E E ti? E ti? E ti? Adesso andiamo a casa che io devo continuare a fare pasta Taci, Anna No, no, tienilo lassù Tienilo lassù che sembra che io sia nel tuo cestino Ma che cosa vuol dire? Eh, se facciamo finta che tu e io sia nel tuo cestino Andiamo a casa che dobbiamo Io devo montare i video e l'Anna deve andare via Fatemi fatto i vostri Boh Siccome questo weekend ho letto pochissimo Oggi un'oretta leggo Finito Finito di leggere Devo anche studiare Purtroppo studierò un paio d'ore Perché devo presentare la tesi anche tra poco Eh già La domenica la uso un po' come la giornata in cui faccio tutte le cose che durante la settimana non riesco a fare Siccome ho un po' più di libertà Ma è sempre la più incasinata Vi dico un segreto Ora Anna È il giorno della settimana che odio di più Indovinate perché è che ha il ritardo e che deve sportare il video e caricarlo su YouTube E mentre andare in una grigliata Dai Tutto qua Direzione grigliata Ma voglio Ciao Ciao Guarda Bea che monta penne Ma che cazzo Ah Ah Bruta tantissimo No Bea Vai via Lo vuoi? No 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 Devi mangiare il salamino Quello col salamino È piccante se mangi solo piccante Mangia tutto Anna mangia tutto Dai su Tutto No che ti rimane Vai Quello Strappa E' una pacca di supporto Grazie Anna Vai Allora delle salsicce Spark E' un'emozione 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 Ciao Ciao Ben Ciao 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 Chiudi Ti Ti Le tolgo da lì No Non così Ah 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 Come che ti prendi la forchetta? Come che ti prendi la forchetta? Scusa Ti ho fatto fatto per te Queste qua sarebbero tutte bruciate Questa qua è scoppiata Grazie Prego Scusa 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 No Finita la cena No Non grattarti qua ora No Finita la cena Facciamo una pennechina Vabbè Questa è una cosa Spazia Oh Ah 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 Ti vuoi tagliare quel peluccio di dosso? Ciao amici Buonanotte Ora andiamo a casa Che ci sono da fare dei lavori C condizioni Ah Ah Oh C Ah Chor